Amiche e amici di Rossini TV benvenuti a casa Rossini anche oggi lo diciamo ancora per qualche puntata in questa formula nuova di questa seconda stagione che è spostata in quanto a orario ed è anche modificata in quanto a contenuti ogni puntata è riservata a un ospite in questo modo ci possiamo concentrare meglio sull'ospite stesso l'ospite di oggi è Alessandro Ligurgo vice direttore di Confesercenti Pesaro ciao Alessandro buongiorno ciao Paolo buongiorno a tutti e buongiorno agli spettatori allora con Alessandro Ligurgo noi vogliamo fare un bel discorso sulle associazioni di categoria che cosa fanno queste associazioni perché diciamo che probabilmente nell'immaginario collettivo anche dei nostri telespettatori in qualche modo ormai ci siamo abituati all'idea che esistano diverse associazioni di categoria le sigle sono ben chiare e pubblicizzate però magari poi che cosa faccia un'associazione di categoria nel dettaglio il telespettatore medio magari non lo sa e allora glielo raccontiamo in realtà lo sa poco anche mia moglie ci sono domande da quando siete spostati ma cosa fai a farti tutte le mattine quando esci di casa esatto ma in realtà la risposta è piuttosto complessa abbiamo Confesercenti è principalmente un sindacato un sindacato di datoriale quindi supporta e sopporta anche le imprese nel loro complesso in particolar modo Confesercenti segue i piccoli commercianti i piccoli artigiani tutto il mondo della piccola micro ma fino anche alla media impresa Pesaro in particolare ha una bella platea di associati abbiamo circa 2000 associati nella provincia per le varie categorie quindi Confesercenti e mamma che ha un po' di categoria al suo interno e quindi segue poi in particolar modo i ristoranti per le loro problematiche il mercato quindi gli ambulanti c'è stata una bella una bella forza sindacale abbiamo anche dal punto di vista degli ambulanti quindi abbiamo per ogni categoria semplifichiamola di relativa al commercio al piccolo artigiano eccetera eccetera c'è un sindacato poi specifico e adatto per per loro Confesercenti mamma è ovviamente sindacato quindi va a cerca di tutelare anche nei confronti della pubblica amministrazione della politica un po' tutte le proprie esigenze che riguardano quindi hai detto tu bene prima abbiamo diverse sigle molte volte in televisione a parte Confesercenti ma si sente Confindustria si sente quindi le associazioni sono parecchie ognuna dedicata a un campo specifico ma in sintesi è quello quindi nel momento in cui c'è una legge nuova che viene emanata c'è un problema da risolvere c'è un problema quindi partiamo dal molto alto la legge che viene emanata fino al al parcheggio che non è esattamente fatto come deve essere ecco Confesercenti interviene nei confronti dell'amministrazione della politica a tutti i livelli e rispetto a una volta una volta mi ricordo che era un po più definito il settore non gli artigiani facevano riferimento alle associazioni dedicate a loro i commercianti a quelle del commercio il turistico invece adesso la legge si è un po' allentata da questo punto di vista c'è più trasversalità anche perché diventa sempre più difficile capire esattamente chi è l'artigiano puro chi è il commerciante puro anche i mestieri stessi si sono un po mescolati il mondo è cambiato è certo è cambiato il mondo e quindi le associazioni sono cambiate di conseguenza c'è siamo ancora in fase evolutiva quindi il mondo imprenditoriale in genere ancora sta facendo questa questa trasformazione tant'è vero che all'interno di una impresa ci può essere il lato commerciale ma anche quello artigianale e viceversa quindi hanno in molti negozi troveremo licenze commerciali abbinate a lavorazioni artigianali o addirittura qualche volta industriali di piccolissima industria ecco quindi le associazioni cercano di tenere il passo con questo per cui non c'è più la dedica al confesar centi è nata per tutelare il piccolo piccolissimo il medio commercio era indirezzata lì oggi non è più che non c'è più questa cosa qui e confesar centi come tutte le altre associazioni ormai è trasversale tutela l'impresa tutela l'impresa e poi tra l'altro c'è questa ramificazione che parte da dall'alto non parte dalla situazione centrale nazionale con interlocuzioni forti perché poi attraverso gli alti livelli appunto nazionali c'è la possibilità di fare interlocuzioni a livello di governo e tutto il resto ma la parte importante che poi queste interlocuzioni arrivano anche nel singolo piccolo negozio nel retro bottega attraverso appunto la capillarizzazione della della del sistema confesar centi che porta anche nelle città e appunto nelle piccole città porta poi quello che arriva come indicazione arriva come un accordo e questa è la forza la forza assolutamente questa purtroppo è per fortuna dall'altra parte l'abbiamo visto a maggior ragione negli ultimi due anni quindi in da quando è scoppiata questa questa cosa che ormai cerco di non nominare nemmeno più perché basta l'innominabile l'innominabile abbiamo visto quanto continua anche l'associazione a livello nazionale quindi abbiamo una partenza a livello nazionale molto forte ma molto molto forte quindi l'interlocuzione con il governo con il parlamento quindi con tutti coloro che in qualche modo governano la nostra vita a cascata poi arriva alla provincia ma non solo salta anche me quindi ci sono addirittura altri passaggi perché poi confesar centi confesar centi di pesaro urbino a nella nella provincia altre otto sedi quindi puoi capire quanto poi capillarmente riusciamo ad arrivare ad ogni singolo nostro associato quindi abbiamo veramente la notizia da consegnare in loco al nostro associato il consiglio da dare per capirci il pdf da stampare e da mettere davanti alla vetrina davanti alla vetrina arriva quello insomma arriva quello ma addirittura adesso voglio dire una cosa molte di domenica il mio telefono è a portata di tutti non è raro che qualcuno mi chiami perché in quel momento ha un problema quindi cerco di risolverlo cerco di di accompagnare il nostro associato nella risoluzione del problema e le associazioni devo dire la verità qualche volta fungono anche da supporto psicologico soprattutto in questi casi cioè quando c'è un vero problema c'è un vero eh decidere no della della propria vita in questi casi eh siamo stati veramente chiusi per tanto tempo e molti eh sono arrivati molti nostri associati sono arrivati veramente a a uno stato di 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 difficoltà aiutami diciamo di difficoltà per far capire ma dove poi non solo l'Alessandro di Gurgo ma tutti i nostri anche colleghi i nostri eh i miei colleghi che collaborano con me eh sono stati di fondamentale importanza cioè la telefonata la chiacchierata la battuta la stupidaggine comunque aiuta anche a a fare poi confesarcenti ha nell'aiuto anche una serie di servizi quindi eh confesarcenti è strutturata in modo tale come le altre associazioni e bisogna dire la verità ma eh è strutturata in modo tale da dare poi dei servizi reali quindi parliamo di contabilità di libri paga parliamo di ehm accompagnamento per eh la richiesta dei bandi e la partecipazione dei bandi che oggi cominciano oggi cominciano a a uscire e sono tanta roba e sono molto importanti per la sopravvivenza stessa in questo momento ma in futuro sarà di grande rilancio e dobbiamo accompagnare le nostre imprese in questo rilancio noi abbiamo presentato ti abbiamo presentato ai nostri telespettatori qualche minuto fa come vice direttore di confesarcenti ma eh questa è una nomina recente in realtà tu sei in confesarcenti da che brutta cosa sono in confesarcenti dal 1989 e quindi sono 30 anni i conti li faranno i nostri telespettatori da prima di nascere praticamente sono in confesarcenti eri un bimbo all'asilo già eri ho capito ero un bambino e già ero in confesarcenti sì beh confesarcenti dico da parecchio tempo confesarcenti è casa mia passo i miei colleghi sono la mia famiglia i miei associati pure sono passo molto più tempo in ufficio e in mezzo agli associati più che a casa mia e casa mia è un associato oltretutto la domanda non era fine a se stessa voleva arrivare proprio a questo no cioè in tanti anni il rapporto tra l'altro avevi un ruolo non di chiuso nel tuo ufficio avevi un ruolo di contatto con gli esercenti con le istituzioni il ruolo avevi ai il ruolo è quello di cerniera mi piace definirla appunto tra tutta la forza commerciale degli esercenti e dall'altra parte con le istituzioni istituzioni a tutti i livelli e questo ruolo sicuramente ti è utilissimo adesso nel tuo nuovo incarico di vice direttore o beh sì assolutamente allora diciamo che dal nel mio recente passato ero più tecnico quindi eh ero il responsabile del del nostro reparto degli affari generali per cui sì eh in ogni caso avevo molti contatti anche da tecnico con il mondo politico eh e imprenditoriale imprenditoriale perché molte volte venivano per forza venire da me i nostri associati per tutti i problemi che non fossero quelli relativi alla contabilità quindi eh venivano da me per chiedere una licenza particolare per avere un supporto eh burocratico no di di qualche tipo per cui una volta preso in carico il problema del del nostro del mio associato mi dovevo rivolgere per forza al mondo tecnico del della delle varie amministrazioni ma anche politico perché qualche volta per poter eh avere un permesso magari particolare bisognava avere anche un'attività di tipo politico per cui doveva passare magari che ne so in consiglio comunale eh piuttosto che solo in giunta e non dipendeva esclusivamente dal 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 questo sì questo mi ha veramente fatto crescere innanzitutto mi ha fatto conoscere anche l'ambito politico io discutevo ieri con mia moglie proprio di questa cosa e del mio nuovo ruolo no perché tu sei un politico non è vero io non sono un politico affatto io sono oggi mi piace pensarmi come un sindacalista cioè io faccio sindacato cerco di tutelare le imprese associate a confesercenti e e interloquisco sì con la politica quindi in qualche modo comunque sia la politica la fai perché mi insegnarono al liceo che chiunque navighi in questa in questa in questa terra comunque in qualche modo fa politica in questo caso lo fai ancora un pochino di più ovviamente ed è il mio lavoro che faccio con sinceramente con passione mi piace e mi piace tanto e la questo approccio precedente mi ha sì dato agio comunque di conoscere il mondo politico di riuscire anche a destreggiarmi no in varie in varie situazioni e come me anche i miei colleghi insomma con l'aggiunta adesso di avere a che fare ovviamente in quanto vice direttore con i colleghi dal punto di vista di dei dipendenti nel senso che perché non dimentichiamoci che noi stiamo parlando del ruolo di confesercenti nei confronti dei degli esercenti e delle istituzioni ma confesercenti è una macchina organizzativa che ha un bel numero di dipendenti per poter funzionare al meglio e siamo un bel gruppo sì siamo più di 60 dipendenti in giro per la provincia devo dire adesso piano piano stiamo anche cominciando a cambiare qualcuno per parlavamo prima da quanto sono io in confesercenti per raggiunti limiti ed età cominciamo a comincia ad esserci il ricambio generazionale ecco in questo in quest'ottica stiamo cercando di veramente trovare dei giovani molto preparati molti in gamba dinamici come deve essere confesercenti oggi visto quello che ci siamo detti cinque minuti fa il mondo sta cambiando dobbiamo essere più oggi sì sì un termine smart smart veloci con una bella mente con noi cerchiamo stiamo cercando di nel rinnovamento di trovare persone così finora ti dirò siamo anche abbastanza fortunati stiamo stiamo trovando delle belle persone adesso piano piano certo questa questa transizione è una cosa che possiamo dire che a chi ci segue da casa è un'opportunità per per la verità sì stiamo adesso in questo in questo preciso momento stiamo cercando altre persone quindi stiamo valutando qualche curriculum ci servono persone in questo momento un po in giro per la provincia quindi se avete se avete voglia se avete capacità se avete se siete smart se siete smart se pensate che possa fare al caso vostro perché poi alla fine quello è andata a scoprire se è vero no perché bravo esatto bello mi è piaciuta quello che si fa uno pensa dice potrebbe essere loro che fa per me vado a vedere se la pensano così anche loro ovviamente le le professionalità sono quelle quindi ragionieri o laureati in economia e commercio quindi abbiamo bisogno di di persone che seguono quel filo lì però perché no realtà in espansione nella città assolutamente da tenere in considerazione assolutamente anche se poi comunque anche qualche creativo anche se per adesso ci ce la caviamo noi insomma e qui stiamo quasi andando in chiusura perché è quello un po' l'argomento che ci siamo tenuti in fondo no perché poi ricordiamo che le associazioni di categoria ma confesarcenti in particolare hanno questa caratteristica di diventare ideatori e produttori di spettacoli di eventi di manifestazioni perché perché c'è da una parte la voglia e anzi da una parte la necessità di far circolare il marchio per cui la necessità che qualunque attività ha dall'altra però c'è il rapporto con gli operatori e la voglia di inventare qualcosa assieme a loro vedi per esempio il brodetto fest tanto per dirne una che sicuramente una manifestazione da questo punto di vista per come l'ho descritta perfetta perché da una parte fa girare il nome il marchio confesarcenti dall'altra però coinvolge moltissimi operatori più tanti altri insomma il posto brodetto anche il fuori brodetto che coinvolge per altro un'altra mesata altre tanti operatori quindi sì però non c'è solo brodetto feste noi abbiamo adesso adesso abbiamo una vista la collaborazione con dei creativi che abbiamo che sono fantastici ecco non farò nomi ovviamente però stiamo stiamo insomma stiamo guardando anche stiamo facendo altre manifestazioni a pesaro abbiamo adesso master fish è una che gira su questa rete per cui già gli spettatori telespettatori già sapranno di cosa di cosa si tratta però abbiamo inventato insieme al creativo insieme al creativo il questo questo piccolo format che sta diventando un grande format però quindi abbiamo delle belle collaborazioni oltre che corosini tv abbiamo dei degli sponsor importanti come conad come vesti lavoro tukitur la camera di pesaro la camera di commercio che ci supporta ogni anno l'istituto santa marta alberghiero l'istituto è vero dimenticavo una collaborazione fondamentale in realtà abbiamo questo questo format che televisivo che ci permette di entrare nelle cucine anche delle dei ristoranti dei nostri associati con questo gioco no tra gente che non ha mai odio cucina ma non lo fa per professione quindi si diletta in cucina e fa assaggiare a giuria di aiutami qui a una giuria esperti che mangiano insomma a tutti quelli che hanno la possibilità di esprimere un voto alla fine alla fine poi c'è un piatto vincitore ricordiamo che i ristoranti sono aperti quindi ci si può prenotare tranquillamente il ristorante i prezzi sono calmierati ed è un tutto compreso quindi anche le bevande non ci sono sorprese poi successive venite a provare i piatti perché sono veramente fantastici io che ho provato un paio di volte nell'edizione precedente è una cosa fantastica veramente insomma abbiamo dato una descrizione dell'associazione direi molto molto completa siamo riusciti immagino e mi auguro a far capire ai nostri telespettatori siamo partiti da lontano cosa fanno le associazioni di categoria cosa fa confeso recenti nazionale cosa fa confeso recenti locale per arrivare al piatto di pesce ma era quello lo scopo alla fine il piatto di pesce è fondamentale è fondamentale allora invitandovi tutti sono già trascorsi i nostri 20 minuti invitando tutti a seguire con attenzione le attività di confeso recenti non solo dal punto di vista dello spettacolo ma anche dal punto di vista proprio operativo per cui a fare una bella riflessione se confeso recenti può essere può fare a caso vostro da imprenditori e da esercenti quali siete noi ringraziamo alessandro rigurgo per essere stato con noi grazie a te grazie alla rete riavremo occasione di approfondire magari con qualcun altro della dirigenza di confeso recenti pesaro e provincia e ringraziamo tutti i nostri telespettatori per aver seguito anche questa puntata di casa rossini vi diamo appuntamento a una prossima occasione una prossima puntata invitandovi come sempre a restare sempre in visione dei programmi di rossini tv grazie a tutti e buona giornata ciao a tutti grazie a tutti